Mattia Boninfante, domani inizia il gran ballo dei playoff, ci arriviamo come seconda squadra classificata della regular season, ti chiedo se te lo avessero detto a inizio stagione ci avresti creduto? No allora non ci avrei creduto totalmente perché comunque era un campionato difficile da affrontare con molte squadre attrezzate per fare bene e ci siamo meritati questa posizione continuando durante tutto l'anno a lavorare, a migliorare. Ecco diciamo che arriviamo un po' rodati alle gare eliminazione diretta dalla Coppa Italia e anche dai recuperi che ci hanno un po' abituato a giocare in infrasettimanale, come si gestiscono queste settimane molto corte in cui si gioca ogni tre giorni? Allora bisogna affrontarle sicuramente una partita alla volta, analizzandole bene e risparmiando ovviamente le energie fisiche, però sappiamo che adesso inizia un altro campionato perché l'agonismo sarà tutt'altro sia da parte nostra che da parte dei nostri avversari e quindi dovremo essere bravi a raggiungere un livello più alto rispetto a quello fatto in precedenza. Cosa ti aspetti della gara di domani sera al Palaprata? Sarà sicuramente una gara molto difficile, abbiamo giocato contro due volte durante il campionato e sono state entrambe partite dure quindi ci aspettiamo una gara difficile e proviamo a fare una grande prestazione per portarci a casa al primo passo. Ecco quindi invitiamo il nostro pubblico, i nostri grandi tifosi che saranno guidati dalla curva aberto domani al Palaprata alle ore 20 e 30, gara 1 dei quarti promozione. Grazie Mattia e buon lavoro. Grazie e vi aspettiamo tutti.